Presidente, ma adesso riesco a fare un bonifico online e non so fare un paglia, non capisco dove va a fare, ormai mi sono proprio adeguato a quella che è la generazione successiva alla mia, fortunatamente riesco a muoverli. La cosa che mi terrorizza è quando mi chiedono per poter fare una cosa in internet, una serie di informazioni che non ritengo idonea allo scopo, allora mi ritiro. Poi c'è anche una serie di password per ogni cosa, io una volta ricordavo tutti i numeri di telefono a memoria, che erano per l'esercizio, adesso basta schiacciare il nome, adesso ci vuole la memoria delle password, che essendo essa è complicate, non è di per sé facile, per cui è un altro bel allenamento per la vecchiaia.